Ciao ragazzi, io sono Raffaele ed oggi siamo in un nuovo vlog, siccome è sabato. Iniziamo con... Non ho la fanart, iniziamo. Per cui mi siamo all'invito. Allora, la prima cosa che devo dire è che avete notato che ho iniziato per questo. Siamo all'episodio numero 3. Ragazzi, allora, domani che esce Happy Whist, farò ancora un altro video. Però inizierò un nuovo gioco che non vi voglio spiegare niente. Domani dopo, Happy Whist, vedrete un nuovo gioco. Allora... E' che ho fatto Toast Night Rapshot. E oggi lo continuerò. Poi... 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 Io farò anche la demo. Perché voi non sapete che c'è anche la demo. E' stata credente perché sto guardando... E li sto guardando Torraimo. Lo spiego perché sto facendo questo video alle 8 del mattino. Mentre... Mi sono spiegato. No alle 8 del mattino. Mi intendo che proprio no... No notte. Io non so neanche se è giotto nel mattino o poi. Mi sono con notte. Perché io... L'orrogio non so cosa voglio dire. C'è uno spruoni. Vabbè, vabbè. Ho scaricato la demo. Cristian! Comunque... Poi... Poi in giro. Vedete cazzo? E' casino tutto questo così. E' proprio cosa... Poi... Iscrivetevi... Cristo Santo! Ciò dovrunà Guardetti... quanto c... è grosso appoggio qui sotto che è l'orba adesso che è l'orba 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 smettiti su un'arma perché? ma perché? perché? ma perché? Cristian ragazzi ammazziamo le sedie le sedie sono moledette non ci sto parlando non ho seduto ma qui sparisci da qui subito le sedie sono cattive guardate guardate che possiamo ammazzare qui e non ho ancora coi dell'utilità della cartegginta dunque vabbè concludo qui l'episodio e non ho ancora bene che oggi mi ricorda e mi ricorda mi ricorda Ciao!